Calcio, parliamo del Pescara che continua la preparazione in vista del posticipo con il Gubbio, l'Adriatico in programma lunedì 2 ottobre con inizio alle 20.30, ricordiamo diretta in chiaro su Rai Sport, ancora differenziato per Pellacani e Franchini, l'ex Padova, stiamo parlando dunque di Franchini, tornerà in gruppo giovedì prossimo, dunque salterà sia la gara con il Gubbio che quella di Coppa Italia il giovedì prossimo 5 ottobre con la Fermana. inizio alle 20.45, sta meglio invece Pellacani che invece potrebbe essere convocato per l'impegno di Coppa con i Marchigiani in programma appunto all'Adriatico, giovedì 5 ottobre alle 20.45. Contro il Gubbio, dubbio, Milani-Moruzzi nel ruolo di terzino sinistro, per il resto in difesa giocheranno Pierno, Brosco e Mesic, a centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Tuniov nel triangolo di metacampo completato da Aloy, favorito su Squizzato nel ruolo di play, e da De Marco, grande protagonista con una doppietta assieme a Plizzari del successo esterno col Sestri Levante. Davanti Mero Lacupone, uno tra Cangiano e Accornero. Domani doppia seduta al comunale Ughetto di Febbo di Silvi Marina, le 11.30, conferenza pregara anticipata di Zdenek Zeman. Il Gubbio ha recuperato l'attaccante italo-nigeriano King Udo, ex Olbia, che ha saltato le ultime due sfide di campionato contro l'Ucchese e Vispesaro. Ripartirà dalla panchina, indisponibile il centrocampista di Giulianova, Francesco Bontà. Braglia potrebbe confermare il 4-4-2, molto offensivo, schierato contro la Vispesaro in attacco spina. L'ex di Massimo, ex di passaggio sulle fasce esterni, Galeandro e Montevago, punte centrali. Più verosimile, in realtà il ritorno al 3-4-2-1. Vettorell-Trepali in difesa Portanova, Signorini e Pirrello sulle fasce Fre e Mercadante. Rosaia e Mercati o Bulevardi nel cuore del reparto nevralgico in attacco spina di Massimo alle spalle di Montevago. Match in programma, lo ricordiamo ancora una volta, lunedì prossimo, 2 ottobre alle 20.30, dirigerà Simone Galipò della sezione di Firenze.